Lei si sarà a essere conto, quando si parla di innovazione si è sempre pronto a fare grandi annunci, poi se andiamo a toccare con mano la realtà delle imprese, andiamo a guardare la realtà della pubblica amministrazione e ci rendiamo conto che esiste uno scollamento. Ecco, secondo lei perché? Che bella domanda. Innanzitutto volevo fare gli auguri dei 40 anni a Data Manager, anche perché 40 anni fa io ero appunto, come stavo detto, nella vostra o nostra industria, ero dall'altra parte tra di voi e ovviamente ho tantissimi ricordi, mi ricordo 40 anni fa stavo per trasferirmi per avere un periodo di assegnazione negli Stati Uniti, insomma vengono alla mente tanti tanti ricordi. Lei mi fa una domanda, se vuole facile o complessa, perché? Perché potrei dire semplicemente che è mancata la leadership su questo argomento dell'innovazione tecnologica, ma è dubbiamente, analizzando un po' la situazione, perché l'Italia è indietro? Cioè mi rifaccio per esempio all'ultimo indice pubblicato da Commissione Europea, che non è orocolato, però ci dà un'indicazione di noi in confronto agli altri. L'indice della Commissione Europea, DESI, il Digital Economy Society, che probabilmente molti di voi conoscono, ci posiziona al 25esimo posto, 25 su 28 paesi. Dietro di noi la solita ben amata Grecia, Romania, non so, insomma. Quindi abbiamo un digital divide con il resto dell'Europa. E stiamo parlando solo l'Europa, lasciamo perdere gli Stati Uniti, lasciamo perdere il resto del mondo. E perché? Quando si va a analizzare i componenti, innanzitutto c'è le infrastrutture. Stiamo parlando, parlando, parlando di larga banda, in alcune aree, a Milano ovviamente siamo abbastanza soddisfatti, ma come sistema paese non abbiamo fatto quello che dovevamo fare dieci anni fa. Ora, il tempo scorre, non mi addentro ai motivi, ma registriamo che siamo in gravissimo ritardo. La carenza di competenze e di skill è un dato oggettivo, è un freno notevole. Il problema delle piccole imprese, noi abbiamo questa grandissima presenza di piccole imprese che allo stesso tempo ha una forza e mantiene a galla il paese, e a mio modo di vedere anche una grande debolezza, non perché abbiamo troppe piccole imprese, ma abbiamo poche grandi imprese. E oggettivamente, poi, basta vedere analisi, eccetera, le piccole imprese, anche perché non hanno la scala, per tanti altri motivi, competenze, eccetera, approccio all'innovazione tecnologica e digitale in modo insufficiente. E poi abbiamo il grande buco nero, che chiamo io, della pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione, ci sono stati tentativi, ripartenze, il guaio degli innovatori è quello di innovare. D'altra parte cosa fanno gli innovatori? Ma la pubblica amministrazione significa il gioco dell'oca. Siccome i governi italiani cambiano molto velocemente, il ministro incarica più o meno, perché poi non si capisce certe volte la governance, qual è uno dei motivi di ritardo, e quindi si riparte quasi sempre da zero. Si annulla o si dimentica quello fatto prima. Quanto in questo capo occorre una grandissima progettualità. E finisco dicendo abbiamo una grandissima opportunità. abbiamo veramente da fare un salto di qualità. Io sintetizzo dicendo dovremmo lanciare veramente un grande progetto paese di government 3.0. guardando a quello che succede nell'industria, l'industria 4.0, un cambiamento straordinario, radicale, profondo, del processo manifatturiero, così anche nello Stato. siamo ancora alla fase dell'informatizzazione, di rendere automatico quello esistente. E abbiamo eccellenze, abbiamo esempi straordinari anche. Ma la sfida oggi è di digitalizzare per cambiare gli assetti organizzativi. Allora, se voi pensate a 1560 banche dati che esistono, tutte non interoperabili, ognuno ha un mondo a sé. Abbiamo centinaia, sono una propria amministrazione centrale, centinaia di centri elettronici, l'uso e il linguaggio degli anni 40. E così via. 8.000 rotti, anagrafi che abbiamo. E così, c'è le duplicazioni, anziché avere un'infrastruttura cloud pubblica da cui scaricare applicazioni e informazioni, eccetera. Insomma, un ridisegno degli assetti organizzativi, non solo digitali, non solo tecnologici, della propria amministrazione, per ridurre i costi e per dare allo stesso tempo migliori servizi. Insomma, stiamo mancando, diceva già Giovannini, stiamo mancando le opportunità, stiamo scivolando indietro e non abbiamo la capacità invece di sfruttare questa straordinaria opportunità che ci offrono le tecnologie digitali. Lei ha citato le resistenze, le responsabilità politiche, il fatto che bisogna battere i muri tra CIO e business. spesso si utilizza questa metafora dei muri perché molto spesso in azienda chi è il padrone dei dati poi ha un potere in più rispetto agli altri. Quindi ci sono anche delle dinamiche, delle logiche un po' vecchie che bisogna superare. Ma visto che lei citava la politica e visto che qui abbiamo Stanca, che è stato, credo, il primo ministro ad avere la delega specifica sull'innovazione, ecco. e cito anche un suo libro di qualche anno fa, L'Italia vista da dentro e vista da fuori. Ecco, che cos'è che non ha funzionato in questi 40 anni? In tre minuti è difficile dirlo, però ci provo, insomma, vediamo un po'. Ho scritto il libro perché ho avuto questa unica opportunità, cioè 35 anni per una multinazionale di cui 15 e più all'estero, quindi ho visto l'Italia con gli occhi, diciamo, del margine internazionale dal di fuori e poi sono stato catapultato nel pianeta pubblico, dico pianeta perché è un mondo totalmente diverso da multinazionale americana e quindi ho visto l'Italia veramente dal di dentro. E allora, da fuori l'Italia è un paese difficile da comprendere, da leggere, per certi aspetti anche crea diffidenza, parlo con estrema franchezza, cioè queste barriere invisibili che poi non sono tanto invisibili, di regole incerte che cambiano continuamente, di discrezionalità, della pubblica amministrazione inefficiente, della giustizia civile, dell'esecuzione di contratti difficili, cioè questa è una giungla per chi ha oggi come margine internazionale delle opzioni maggiori, perché è il contesto che è cambiato. Cioè l'Italia aveva una posizione, un ruolo geopolitico estremamente importante e quindi si guardava all'Italia un tempo con molto interesse. Poi è successo che intorno a noi tutto il mondo è cambiato. Prima la caduta del muro di Berlino, la globalizzazione, l'avvento delle tecnologie ha accelerato il cambiamento intorno a noi. Jack Welch credo abbia detto preoccupati, parlando dei manager, quando il cambiamento esterno alla tua impresa è maggiore di quello interno, stai attento che corri dei rischi. Ecco, questa è la situazione dell'Italia. Noi o non l'abbiamo voluto capire o non l'abbiamo voluto seguire o non l'abbiamo guardato troppo al passato perché arrivavamo da una rincorsa del benessere. A metà degli anni 90 abbiamo cominciato la decrescita che tutti i paesi poi hanno avuto ma noi dagli anni 90 inizio anni 90 siamo cresciuti meno della metà della media europea. Meno della metà della media europea. Praticamente tutto l'arco dei 20-25 anni. Ma quando lei aveva la responsabilità di decidere che cos'è che ha frenato? Dall'interno dall'interno dico subito la politica è debolissima. La politica non è in grado di definire delle politiche. La politica è troppo miope. La politica è troppo domestica. Quindi quando dico questione di leadership la prima qualità che bisogna avere ma non do solo responsabilità. Ma lei sta dicendo che se non è riuscito a fare quello che voleva fare è perché aveva poca leadership. Io mi preoccupo perché sono stato il primo e l'unico ministro dell'innovazione tecnologica che ho fatto talmente male che non so per me. Questo è l'esempio più negativo non facciamo più però ho accennato alla governance gestire questi fenomeni così come voi vivete ogni giorno in vostra azienda dei processi di trasformazione complessi difficilissimi e pensare alla pubblica amministrazione italiana è veramente di un livello di complessità veramente più forte e quindi ci vuole ancora più determinazione più chiarezza degli obiettivi dell'architettura della visione della pubblica amministrazione nel ventunesimo secolo di chi è responsabile di come chiamare tutte le migliaia di pubblica amministrazioni a concorrere di come collaborare con il pubblico e con il privato insomma è veramente una complessità notevole non ci siamo riusciti quindi ho avuto delle resistenze ho avuto dei problemi ho avuto dei ritardi anche all'interno del governo non parlo di incomprensione e anche di limiti evidentemente della mia azione però lanciato tanto per fare un esempio il codice della pubblica amministrazione digitale quindi come dire un quadro normativo perché nella pubblica amministrazione al di là di tutti i fattori che voi ben conoscete poi c'è anche l'aspetto normativo estremamente importante ecco dopodiché negli ultimi dieci anni è stato continuamente cambiato quasi un accanimento non a eseguire ma a cambiarlo e quindi tante cose previste già nel codice dodici anni fa non sono state implementate non sono state eseguite e questo è il dilemma ecco lei ha dovuto quando ero in IBM gestire una crisi importante anche lì era chiaro che il lavoro stava cambiando bisognava prendere delle decisioni per conservare come dire la competitività e prepararsi al passo successivo siamo più o meno ancora in quella situazione anche se sono passati come dire diversi decenni da allora e quindi le imprese sono un po' in bilico tra questa trasformazione di cui tutti parliamo e scriviamo e poi la capacità di essere come dire resilienti però bisogna resistere ecco lei è d'accordo con quello che diceva il professor Giannini su questo su questa capacità di essere poi come dire forti e resistere e gestire il momento perché poi l'innovazione che ci possiamo permettere è l'innovazione dell'emergenza allora vorrei tre cose arrivo subito alla sua prima domanda solo per mettere un attimo i piedi per terra tre esempi di cosa stiamo parlando mi riferisco alla propria amministrazione non è che c'è uno o due ma parecchie ASL hanno sistemi informatici incompatibili con la regione di appartenenza ma non da ieri da anni voi capite è stata introdotta la fattura elettronica benissimo ma lo sapete che quasi tutti la maggior parte della propria amministrazione la stampano e la conservano fisicamente perdendo praticamente tutto il vantaggio o quasi il vantaggio di avere una fattura elettronica è stato introdotto recentissimamente non sto parlando di vent'anni fa che con il canone concordato un proprietario di appartamento può avere un'immun ridotta si è scoperto che la dichiarazione che si fa all'agenzia delle entrate non è sufficiente il povero cittadino deve fare anche la dichiarazione al comune perché il comune deve sapere perché la tassa riguarda poi il comune perché lo Stato non ha messo in connessione e integrazione l'agenzia delle entrate con il comune esempi banali per dire che i grandi cambiamenti si fanno quando c'è una visione ma poi la capacità di realizzare cioè ci vuole un'architettura una visione una direzione e la forza la competenza la determinazione di realizzare questo se manca uno dei due siamo persi ora questo resistere attenzione resistere non al cambiamento siamo qui tutti consapevoli perché siamo il mondo della tecnologia che l'onda è diventato un tsunami di cambiamento derivante della tecnologia non è l'oggetto la tecnologia è solo un trigger un fattore uno strumento ma ci sta cambiando ma non solo il mondo delle imprese tutto la società la politica l'impresa mondo privato pubblico e quindi bisogna resistere non al cambiamento resistere cioè nel senso che bisogna capire che bisogna cambiare con una capacità che abbia alla base come dire una visione una strategia una direzione e che comunque affronti anche situazioni difficili il cambiamento non è facile il cambiamento ci ponono anche delle scelte ai manager come la pubblica amministrazione a decisioni anche difficili non popolari cioè non vorrei dire una crisi permanente una crisi in termini positivi ma bisogna quindi resistere nel senso positivo non di resistenza al cambiamento ultimo voglio finire però con una considerazione perché sennò qui siamo in una sessione di depressione e di sconforto ma allora attenzione a Venezia l'altro giorno stavo giovanino il responsabile della filiale italiana di ABB diceva noi siamo tra i migliori delle filiali al mondo è una multinazionale che è TOWARD in Italia una multinazionale che è una filiale in tutto il mondo in Italia ai miei tempi ora è vero che stiamo parlando di parecchi anni fa ma l'IBM Italia era di gran lunga una delle migliori organizzazioni al mondo nel mondo era usato come benchmarking in molti casi girate il mondo trovate italiani straordinariamente bravi che hanno successo il manager italiano ha una qualità assolutamente unica e come dire superiore ad altri manager innanzitutto perché noi l'unico indica è la lingua ho visto tantissimi manager bravissimi però handicappati dalla lingua ma abbiamo la capacità di flessibilità in questo mondo di grande cambiamento di velocità bisogna essere molto flessibili intellettualmente neutrali dal punto di vista non nazionalistici noi non siamo aperti alle culture cioè abbiamo delle qualità il caos il cambiamento forte noi siamo allenati perché viviamo poi quindi siamo testati e quindi quando andiamo all'estero siamo bravi quello che manca ritorno a quello che dicevo prima sono le politiche che mettiamo abbiamo esempio di eccellenza anche nella pubblica amministrazione come le imprese straordinarie che riescono ad avere successo in tutto il mondo cos'è che manca e non riusciamo a creare quel collante quelle politiche ma non è solo responsabilità della politica non ci chiamiamo fuori se no abbiamo un'agenda sbagliata quando parlo di leadership in senso più ampio possibile è incluso quello del settore privato quello delle università estremamente importante cioè di lavorare insieme integrarci per veramente fare un miglioramento del sistema siamo carenti in questo ma date delle condizioni che ci pongono gli altri per esempio l'organizzazione anglosassone o la cultura del merito per esempio carente in Italia e quindi perciò i giovani vanno via ecco se ci danno le condizioni e le condizioni c'è chi ha la responsabilità quindi i capi i leaders noi italiani siamo bravi ma non è lo dico solo per tirarci su perché basta girare il mondo basta parlare con qualcuno voi stessi chi è che lavora in un multinazionale probabilmente la vostra filiale italiana è tra le migliori al mondo quindi non è un paese destinato al declino abbiamo perso terreno dobbiamo essere consapevoli di questo però un paese grazie a Dio che ha ancora delle risorse siamo un paese ricco giovanini può dirvi che in ricchezza siamo tra i paesi più ricchi al mondo è lo Stato che è povero abbiamo delle risorse umane straordinarie quindi abbiamo dei core asset fortissimi ecco bisogna trovare come dire la chiave giusta chi riesce finora non l'abbiamo ancora trovata però fiducia non l'abbiamo ancora